liberi liberi a casa anche quest'oggi 19 aprile 2020 eh da casa come ci impongono le regole per cercare di ridurre il contagio da covid 19 eh con il collegamento con Pierpaolo Segneri. Pierpaolo Segneri lo conosciamo su LibriTV, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, grazie a te Gianni. Sto facendo parecchie interviste di Pierpaolo, vari eventi su cui lo potete seguire riguardo appunto ovviamente approfondimenti di politica, cultura e quest'oggi parliamo con lui o della vicenda politica dell'Italia, quella diciamo sanitaria la conosciamo abbastanza, prendendo spunto da un approfondimento, un suo articolo che eh ha pubblicato eh per l'opinione ben due anni fa ormai perché parliamo del maggio 2018 e in cui già si parlava eh a seguito delle elezioni politiche del 2018. Allora Pierpaolo eh tu prendi spunto dalla situazione in quel momento che è molto simile un po' in qualche modo tu poi mi dirai cosa ne pensi a quella attuale e fai delle delle proposte. Un momento di particolare gravità politica che eh necessita necessita di una presa di coscienza. Di che si tratta? Due anni fa quando si aprì eh dopo il voto delle elezioni politiche che ha eletto l'attuale Parlamento quindi eh è iniziato subito un percorso di veti incrociati di forze politiche l'una contro l'altra c'era una situazione di caos generale perché eh il voto non aveva dato nessun vincitore cioè tutti vincenti ma nessun vincitore. Era vincente il centrodestra perché nella quota uninominale era la coalizione con la maggioranza relativa. Era vincente il Cinque Stelle perché a livello proporzionale come in lista avevano preso la percettuale più alta. Era vincente il PD perché comunque era il lago della bilancia e era riuscito a arcinare eventuali crolli elettorali eh prendendo comunque una quota eh significativa e resistendo quindi al rischio di implodere. Insomma tutti i vicenti nessun vincitore e siccome eh quella situazione non vedevo vie di uscita cioè le vie di uscita che si stavano creando in parte erano tre in quel momento o un governo di centrodestra che si allargava ai responsabili o un governo eh giallo verde che poi è la probabilità che si è realizzata cioè eh Cinque Stelle con la Lega oppure l'ipotesi era in campo anche tra il momento cinque Stelle e pedi ma i venta stellati non ne volevano sapere proprio dice con tutti ma non con i pedi. Quindi in questa eh situazione di vedi incrociati ho pensato la soluzione è possibile una soluzione è possibile rispetto a queste probabili che si sarebbero realizzate se non ci fosse stato un tentativo diverso. Ora a distanza quindi di due anni identica quella stessa proposta secondo me ritorna ancora più attuale in realtà questa proposta dovrebbe essere eh accolta e convincere a diciamo già la partitocrazia no chiamiamola così per riprendere un un vocabolo tanto caro a Marco Pannella eh che è trasversale perché è anzitutto una soluzione politica quindi non tecnica è una proposta politica che ehm dà una via d'uscita a una situazione come dicevi giustamente tu di emergenza come all'epoca due anni fa poi ne parlai anche con Radio Radicale però il primo articolo è del 2 maggio ehm 2018 l'ho scelta proprio come data perché è il compleanno di Marco Pannella il 2 maggio e poi 2018 ormai Pannella era già scopparso però come data identificativa un ho avuto eh diciamo l'intuizione di fare un parallelismo all'epoca basta vedere sull'opinione quindi non c'entra niente il coronavirus non non c'è nessun riferimento ai fatti successivi perché non non si conoscevano e ho nell'articolo esprimevo eh un'analisi politica di mi di diciamo di macerie macerie istituzionali macerie democratiche macerie anche rispetto a una legge elettorale che non aveva dato un risponso alle urne eh in grado di formare una maggioranza di governo no? E quindi mi sono rifatto all'idea di un governo de Gasperiano quella è la proposta come nel 1946-47 eh De Gasperi riuscì a formare un governo anche con le forze a lui più lontane agli antipodi ma un governo che fosse eh di ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale così io scrivevo nell'articolo quindi ci tengo a precisare che questi riferimenti non sono riferimenti di oggi rispetto al coronavirus e eh qualcuno potrebbe dire basta con questa metafora della dopo guerra in questo periodo no io la facevo già due anni fa quindi per me la situazione era già gravissima due anni fa figuriamoci adesso e quindi eh ho messo in evidenza la necessità di eh fare eh in modo che le varie forze politiche chi ci sta come nel 1946-47 con De Gasperi, la Malfa, Nenni, il Partito Socialista e eh Togliatti con il Partito Comunista formarono un governo insieme e pur essendo agli antipodi riuscirono a eh creare i presupposti poi prima di tutto eh in vista delle elezioni poi del 18 aprile 48 e quindi con le prime elezioni della Repubblica no ma proprio di traghettare eh l'avvio di questa nuova Repubblica dopo il referendum del 2 giugno 46 eh verso una democrazia che fosse appunto capace di eh riavviare un discorso di libertà nel nostro paese e se ci uscirono loro all'epoca con quelle diciamo differenze ideologiche politiche eh oggi più che mai eh ci sarebbero le possibilità magari qualcuno potrebbe dire non ci sono gli uomini non abbiamo la statura di una classe politica come quella a cui facevo riferimento non c'è De Gasperi non c'è Togliatti non c'è Nenni e non c'è nemmeno Ugo Lamalfa vabbè diciamo con quello che ci sta con quello che ci offre il panorama politico quella due anni fa era una proposta seria perché significava cercare di mettere dentro il governo tutti i leader politici che ci stanno a questa prospettiva e proponevo un eh presidente del consiglio ovviamente di garanzia capace di unire le differenze e di dare eh comunque affidabilità autorevolezza credibilità a livello nazionale internazionale io all'epoca facevo già riferimento a Draghi non avevo fatto proprio il nome di Draghi avevo fatto l'identikit perché all'epoca essendo presidente tra BCE eh mi fece quasi un discorso di auto eh censura per non fare un nome di una persona che eh in quel momento stava svolgendo un altro tipo di incarico molto importante però poi l'ho ripresi il 10 aprile 2019 cioè un anno fa dicendo proprio il quel nome a cui facevo riferimento era Draghi perché già un anno fa il 10 aprile si vedeva che il governo giallo verde non avrebbe avuto vita lunga poi ci fu la crisi ad agosto però ad aprile era chiaro e quindi fece il nome di Draghi secondo me sul possibile governo qualora fosse caduto il governo giallo verde di Lega e eh 5 Stelle poi ci sono ritornata ad agosto e sempre con questa idea di Draghi ma non ecco questo è l'elemento fondamentale non un governo tecnico dentro gli optimati o i migliori no un governo con dentro eh Matteo Salvini visto che si è espresso in tal modo Matteo Renzi eh con dentro altri leader anche del che ne so Tagliani per Forza Italia con quelli che ci stanno io non lo so magari eh anche Di Maio se se il 5 Stelle ci vuole entrare chiunque penso a Enrico Letta penso ad Emma Bonino devono entrare nel governo un governo ovviamente di ricostruzione che duri almeno fino all'elezione del prossimo capo dello Stato ma un governo di garanzia un governo politico non tecnico perché se no è inutile se si fa un governo tecnico purtroppo la situazione attuale è talmente grave per quello che tutti noi possiamo vedere vivere in prima persona che un governicchio come l'attuale a mio parere non ha la forza eh politica per affrontare il periodo di ricostruzione è utile in questa fase ma appena finita questa fase diciamo servirà invece eh porre le basi di una eh ricostruzione questo governicchio non è adatto serve qualcosa che unisca il paese che rende il paese coeso anche con l'opposizione ma con un'opposizione ovviamente che si tenga libera per ricostruire eh in maniera hm diciamo costruttiva una serie di eh questioni che riguardano non soltanto l'economia non soltanto l'aspetto sociale non soltanto l'aspetto del lavoro cose fondamentali che dovranno essere affrontate non soltanto la scuola ma anche e soprattutto l'istituzione la democrazia allora ti fermo un attimo e volevo appunto proprio su questa cosa se è possibile commentare insieme a te e tu in questo articolo mh facendo il parallelo appunto con la situazione post bellica eh in cui c'era una necessità in qualche modo di realizzare di inventare una carta costituzionale eh parli appunto di un eh di una chiamata di responsabilità sostanzialmente per fare anche delle riforme allora questa chiamata di questi personaggi che tu hai nominato poi peraltro la differenza con allora è che c'erano dei partiti di ideologia qui e oggi è un po' più sfumata ma comunque sia una chiamata mettiamo che si riuscisse ad ottenere bisognerebbe intanto avere una spersonalizzazione cioè una spersonalizzazione una una visione super partes cioè una mettersi al servizio del paese non della propria forza politica sostanzialmente per per una riforma allora questa riforma che tu in qualche modo qui eh parli di cui parli è una riforma istituzionale costituzionale che cosa ti ospicheresti? Eh bravo hai fatto il ragionamento giusto sei arrivato al punto dove volevo arrivare e il discorso ovviamente per assurdo ripeto è un'uscita politica che serve per eh diciamo ridare forza e futuro alla repubblica democrazia liberale fondamentale ma per assurdo è l'uscita politica che salva anche la partitocrazia cioè le attuali forze in campo hanno secondo me questa unica possibilità di un governo Draghi governo politico e accanto fare leggere far votare appena sarà possibile dagli elettori dai cittadini un'assemblea costituente un'assemblea costituente dove far eleggere ovviamente magari qui sì a livello proporzionale le varie forze politiche con le varie culture politiche ma importanti che devono essere rappresentate e con dentro eh figure di persone sia già conosciute autorevoli importanti pensa a costituzionalisti alla cassese eh oppure giornalisti comunque che possano dare un contributo importante oppure uomini di cultura eh personalità anche politiche eh mi vengono in mente gli anziani perché insomma eh mi è più facile però penso che ne so se Emma Bonino è ministro magari eh Gianfranco Spadaccia o Rita Bernardini possono essere elette all'assemblea costituente oppure penso a figure mh autorevoli secondo me come Massimo Paciari che è un po' politico un po' intellettuale ma ecco queste figure per costruire attraverso un'elezione un'assemblea che possa magari essere guidata faccio dei nomi così per far dare un'idea che ne so o una figura come Giuliana Amato oppure eh come l'attuale presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ecco se vogliamo scegliere una donna sarebbe un'ottima presidente da dell'assemblea costituente ma ci metterei anche persone eh dai venticinque anni in su diciamo anche delle nuove generazioni che possano così eh rappresentare quell'unità del paese eh anche eh diciamo di generazioni diverse che possano anche fungere da riserve della Repubblica quando sarà terminato eh terminata la legislatura cioè gli stessi partiti possono puntare a fare leggere personalità di spessore di qualità oggi si parla tanto di competenza comunque di anche di competenza politica perché anche la politica svolgere la politica richiede una competenza diciamo una preparazione una cultura mh e quindi questo l'abbiamo visto eh purtroppo da tanti anni a questa parte e oggi sempre di più no? Eh come se per svolgere attività politica non fosse richiesta una preparazione politica e questo secondo me è un danno non è un diciamo un elemento che caratterizza l'attuale situazione o solo l'attuale Parlamento no? Però se lo portiamo avanti da un po' di tempo secondo me e invece ecco un'assemblea costituente e allora si diventa una scelta politica dove non ci devono essere i membri del governo non ci devono essere i parlamentari allora il Parlamento gli acquisti la sua funzione democratica e eh dopo eh questa fase eh dovrà comunque riprendere il suo ruolo quello appunto della discussione e del ruolo legislativo che è il Parlamento e tra l'altro appunto si riunirà il 22 aprile proprio per il cura Italia eccetera e quindi il Parlamento è necessario che eh riacquisti il suo ruolo e i parlamentari devono svolgere quel ruolo hanno avuto un mandato dai cittadini al governo i leader addirittura voglio dire uno come Matteo Salvini che considero agli antipoti rispetto alle mie idee però l'ha capita questa cosa forse magari l'ha suggerita Giorgetti non so questa cosa su governo di legislatura governo di ricostruzione guidato da Mario Draghi l'ha capita come ha capito per esempio oppure io diciamo io penso che il peggiore governo che l'Italia abbia avuto almeno quando sono andato io cioè dal 73 a oggi è sicuramente stato quello giallo verde eh eh Salvini di Maio quindi mh non è che mi faccio problemi a del resto sono cose che già ho detto e scritto quindi non è che io abbia simpatie per Salvini ma Salvini per esempio aveva capito l'importanza di una riforma di legge elettorale uninominale maggioritaria poi si può ragionare quindi eh anche queste forze politiche possono entrare nel governo se decidono se pochi ne so la Meloni preferisce rimanere fuori o i Cinque Stelle preferiscono rimanere fuori non importa addirittura chi sceglierà magari in questo governo Draghi di stare all'opposizione potrebbe anche per assurdo riacquistare forza perché stando all'opposizione potrebbero ritrovare alcuni elementi verso i Cinque Stelle connotati per rileggere un po' la loro storia e ricostruirsi perché così come vanno le cose io lo dico ai partitocrati eh che sono al potere nel palazzo sia maggioranza che opposizione così come stanno le cose loro si stanno suicidando cioè a livello politico stanno andando verso il baratro il problema che loro rischiano di portare al baratro verso il baratro e quindi nel burrone quindi al disastro l'intero paese allora con questo clima di campagna elettorale ininterrotta noi ogni giorno viviamo la campagna elettorale dove ogni partito cerca di tirare eh diciamo la carretta rispetto ai propri interessi ognuno come si dice attacca l'asino dove vuole il padrone ma così non si va da nessuna parte ci vuole un clima costituente con un'assemblea costituente così come ti ho detto eletta e composta da figure comunque eh autorevoli importanti credibili preparate anche politici ma della cultura del di tutti i settori dell'imprenditoria ma di personalità che veramente possono essere riferite a a un cambiamento di un salto che noi comunque dobbiamo compiere perché parliamoci chiaro questo virus ci sta facendo fare un salto è un salto un salto che è politico questo salto politico potrebbe finire malissimo invece tutti dicono saremo migliori io non lo so se saremo migliori o saremo peggiori dopo questa cosa se saremo più se sarà aumentato l'odio che dice siamo tutti più amici più solidali io non lo so se questa cosa è vera diciamo mi riservo di dubitarne e quindi eh serve invece creare questo clima allora sia chi sarà maggioranza con questo governo che sarà l'opposizione eccetera deve svolgere il proprio ruolo e costruire eh un'uscita politica altrimenti eh veramente secondo me eh si porterà via non solo la particolazione l'intero paese poi può venire fuori il peggio no cioè quando il nulla il nulla come il vuoto della politica quello che può accadere è il peggio cioè veramente forme diciamo che non possiamo prevedere di autoritarismo di cose e sbagliato sarebbe andare al voto cioè le cose che scrissi sul quotidiano grazie ad atturo diagonale le prenderei così come l'avevo detto e le porterei ai giorni nostri perché non avrei nulla da cambiare cioè il problema il problema di fondo alla redice è stato il risultato elettorale del 4 marzo 2018 elezioni politiche cittadini hanno chiesto un cambiamento hanno chiesto serietà hanno chiesto credibilità hanno chiesto un salto verso qualcosa che potesse veramente condurre a una democrazia liberale che in Italia ancora non c'è e questa cosa non lo può fare una parte o un partito si può fare solo con una coesione un progetto un'idea che sia un'uscita politica altrimenti le altre alternative sono tecnocratiche e sarebbe sbagliato sarebbe la scoffessione della politica oppure tornare al voto sarebbe la cosa peggiore secondo me perché in questa situazione non si può tornare al voto poi c'è ancora il referendum sul numero dei parlamentari eccetera quindi andare a voto significa aprire la campagna elettorale con la situazione che abbiamo nel paese con le macerie che ci sono aprire la campagna elettorale in questo momento è assurdo è come se nel 46 se fossero fatte le elezioni politiche e le elezioni politiche sono fatte il 18 aprile 48 dal 46 al 48 si è lavorato alla ricostruzione e si è fatta l'assemblea costituente anche perché bisogna capire noi dobbiamo avere una costituzione anche aggiornata ai nostri tempi aspetta fermati qua adesso questo ti volevo chiedere allora questo covid ha portato alla luce alcune secondo me alcuni problemi proprio relativi all'assetto sul territorio delle istituzioni la distribuzione dei poteri il decentramento il regionalismo una serie di cose ma a parte le opinioni secondo te in questo progetto di costituente rispetto a ciò che c'è secondo te cos'è che prima di tutto andrebbe affrontato per essere modificato che cos'è che ha dato maggiormente che è emerso maggiormente di veramente incapaci di affrontare il percorso di questo paese di ormai inadeguato se mai lo è stato adeguato proprio come istituzione ma sicuramente allora parliamoci caro la costituzione che è stata fatta nel 46 47 inevitabilmente risentiva della timore della paura eh di un totalitarismo o di una dittatura che dovesse tornare quindi giustamente se io fosse stato eh nei padri costituenti avrei fatto la stessa cosa cioè eh Piero Calamandrei e tutti i nostri padri costituenti in quel momento non potevano che fare una scelta che bloccasse qualsiasi tentativo eh di un emergere di una dittatura rispetto all'esperienza che avevano già avuto con il fascismo e quindi eh la nostra costituzione che è un mi piace moltissimo però risente di questo fatto eh so facciamo riferimento al bigameralismo i poteri del presidente del consiglio e i contropoteri i pesi e contrappesi che ci devono essere o che non ci devono essere eccetera ripensarla tutta eh anzitutto eh per esempio se tu immagini una legge proporzionale e quindi basata sui partiti eh bisogna costruire comunque le istituzioni rispetto a questa logica ma se tu fai un nominale maggioritario con i collegi piccoli come con Luigi Naudi liberali eccetera una pannella il referendum del 93 il patto segni eccetera e allora eh bisogna ragionare in modo diverso quindi rivedere alcuni passaggi eh oggi oggi parliamoci caro eh per fare quello che hanno fatto rispetto alla costituzione vigente sono state fatte delle forzature quindi eh come se si dicesse che la democrazia liberale eh è valida solo nei tempi di pace e di benessere perché in tempo di guerra o di carestia o di eh di peste eh nei periodi virulenti eh la democrazia liberale non è in grado ci vuole ci vuole un altro tipo di di potere separato l'uomo solo al comando uno che comanda tutti eccetera ma che oggi per esempio oggi si deve capire che cosa vogliamo il nostro presidente ti sembra un uomo solo al comando il nostro presidente Conte diciamo che diciamo che la nostra costituzione non lo mette nelle condizioni di fare ci sono state delle scelte eh che hanno emarginato un po' il Parlamento e hanno invece eh diciamo per questioni di di emergenza eh portato a delle scelte quella dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri che hanno eh diciamo forzato rispetto a quello che invece è la costituzione allora con queste cose bisogna decidere e chiarirle e vederle se se sono adatte se vanno riviste oggi Conte secondo me ha cercato di usare eh dei poteri che non aveva per poter affrontare una situazione che altrimenti eh forse avrebbe avuto bisogno di più tempo perché la democrazia è è più lenta no? E però allora bisogna decidere se eh che tipo di democrazia vogliamo fino a se il connotato liberale ha un un valore ancora oppure eh ci vuole una democrazia autoritaria se vogliamo il presidenzialismo o il semipresidenzialismo alla francese e queste però queste cose ehm purtroppo non lo può fare questo Parlamento che in gran parte non è adeguato al compito non eh non li deve fare il governo perché non gli compete e i leader politici come eh De Gasperi, Lamalfa, Negni e Togliatti devono stare a governo chi ci vuole stare e risollevare il paese, creare un clima costituente, il Parlamento deve continuare a fare il Parlamento e recuperare il suo ruolo di discussione legislativo e l'assemblea costituente che affronti questi nodi eh e che ehm diciamo aggiorni la nostra costituzione rispetto ai tempi che sono cambiati. Secondo me ehm ci sono appunto questi punti che vanno eh sciolti rispetto a quello che si vuole. L'importante è che ci sia una visione. Se io per esempio ho una visione uniminale maggioritaria quindi io farei un semipresidenzialismo alla francese oppure anche un presidenzialismo non sono contrario. L'importante è creare i presupposti pesi e contrappesi che oggi mh sono eh tali che mh secondo me non permettono quell'agilità che si vorrebbe e che eh quindi costringono a delle forzature, a degli strappi rispetto alla nostra Costituzione. Quindi se tu mi dici Conte ha fatto degli strappi secondo me sì. però l'emergenza eh lui giustifica lo richiedeva. Ora eh bisogna capire se eh questa questi strappi, queste forzature eh sono ehm compatibili con la nostra Costituzione se dobbiamo aggiustare un po' la nostra Costituzione. Eh però ehm l'uscita politica è solo questa. In questi due anni fino al nuovo eh l'elezione del nuovo capo dello Stato è necessario che ci sia eh un'assemblea che si occupi di questo, che faccia crescere anche all'interno delle eh eh diciamo personalità che possano poi essere una riserva della Repubblica italiana. Nel frattempo le forze politiche devono con responsabilità andare al governo. Io voglio dentro Renzi lo voglio nel governo, Salvini lo voglio nel governo, Tagliani lo voglio nel governo, e Mabbonino lo voglio nel governo per dire. Cioè i leader, abbiamo capito, abbiamo capito. Oppure chi ci sta non so perché vabbè Zingaretti è già governatore della Regione Lazio quindi già è venuto che sta al governo, fa già il governo. governo. Certo. Però il PD ha tanti leader insomma c'è sta Franceschini. Non so. Questo è quindi. Ti ringraziamo, ti ringrazio Pierpaolo con questo auspicio. Chiudiamo qui, ricordiamo. Il governo politico de Gasperiano, politico con Mario Draghi per la ricostruzione. Perfetto. Non voto e basta a governicchi che non ce la fanno in una situazione in cui serve un clima diverso. Ricordiamo sull'opinione delle libertà una proposta per uscire dal guano è l'articolo che un pochino ha ispirato questa nostra conversazione. Di due anni fa, eh? Un articolo di due anni fa. Il 2 maggio 2018. Grazie per Paolo Zingaretti. Grazie a te. Un saluto agli ascoltatori. Grazie a te. Grazie a tutti.